Ciao ragazzi, ci siamo, ci siamo qui, tutto sta cambiando su Neo e sono super contenta perché lo sto vedendo anche su mio stesso corpo. Allora, vediamo se riuscite a vedere la muscolatura. Io sono come voi, che quando entro nella fissa, entro in superallenamento, cioè mi alleno troppo e lavoro con osteopati e fisioterapisti molto forti e che riescono anche a destrare Gilles Cooper e mi dicono perché ho avuto un po' di problemi articolari quest'estate e non quest'estate sotto la quarantena e mi hanno detto a Gilles, ti devi calmare, ti devi recuperare e ho visto che dando più tempi di recupero e allenandomi in modo diverso io sto acquistando molto più forma, molto più tonicità, molto più definizione, no? avendo proprio la schiena più definite, le braccia più definite, così. Per tutti i miei amici che vogliono cominciare ad avere più, proprio più muscoli e più definizione, cominciamo ad adeguare i nostri allenamenti. Allora, io basso poco poco la musica perché oggi la faremo in total body, ma in total body un po' diversa. Uno, cominciamo a non fare più di 50 minuti alla volta, anche 45, perché al 45esimo minuto noi cominciamo a produrre cortisolo. E per questo quando partirà il nuovo Mela Ampera, che fra pochissimo, parte fra due giorni, noi faremo blocchi di lavoro mattina, pomeriggio, provandone di mai superare i 45 minuti. E non dobbiamo fare tutti i giorni tabataci, power, perché pensiamo che dando di più ci darà di più. No, noi dobbiamo dare un stimolo al corpo, poi dobbiamo dare la nutrizione e il tempo di recupero per il corpo di risplendere. E' un vero e proprio opera d'arte il nostro corpo e noi a volte proviamo con le diete estremiste e con allenamenti estremisti, pensiamo di forzare il corpo, quando non è vero. Non si deve forzare il corpo, devi assecondare il corpo per avere più risultati. Allora, cominciamo con le mani di fronte e il petto e spingi mano contro mano. Adesso voglio cominciare proprio a potenziare i polsi, perché molti di voi nel fluid, non riuscite a fare il fluid. Ok, porto avanti e sto spingendo questa parte della mano, uno contro l'altro, proprio per sentire i polsi che si fortificano. Ok, spingo e spingo e spingo e spingo. Proprio le polpastrelli, non le polpastrelli, scusami, questo è il palmo della mano, ok? Spingo, spingo, spingo. Adesso porto il braccio destro avanti e tiro indietro le dita. Senti come si allunga. Gli esercizi per, cambia il braccio, gli esercizi per i polsi dovrebbero essere fatti quasi tutti. Gli esercizi per i giorni, ok? Però per cominciare, quando non hai più dolore nei polsi vedrai che riuscirete a fare molto più fluid e riuscirete anche a fare molto più presi con i pesi, perché poi è lo snodo per i pesi, snodo per anche fare i fluid. Allora, scendiamo, giriamo le dita indietro e porto indietro i fianchi finché sento un po' di pressione sui vostri polsi, senza esagerare però. Di nuovo, 4, 3, 2, vengo su, ancora, 4, 3, 2, di nuovo, giri le mani. Perché io mi ricordo quando ho cominciato il percorso di fare tutto fluid e tutto quello per fare i verticali, io all'inizio proprio sentivo del dolore nei polsi o tra ogni immaginazione. Però vi posso dire, cambia, dorso della mano a terra e facciamo piccoli esercizi proprio come se stessimo facendo un push up per sentire questi polsi che si allargano, si riscaldano, si allungano. Ok, porti adesso le polpestrelli sotto di te e solleva il polso, tengo 4, 3, 2 e scendo giù e faccio 4, 3, 2 e giù. Oggi lo lavoreremo proprio con i pesi, total body, body weight, tutto quello che è total body in un contesto meno aerobico perché l'aerobica è bella, l'aerobica è fantastica, ma ripeto, noi non dobbiamo fare sempre tutto. Un giorno magari facciamo un lavoro aerobico, un giorno facciamo tonificazione e mentre sto facendo tonificazione permette il mio corpo a raggiungermi. Ok, spingiti indietro, pedale con le gambe proprio dobbiamo anche riscaldarci sempre. Un riscaldamento è un'altra cosa fondamentale per lavorare in sicurezza. Ok, ti garantisco, quando cominci a lavorare con i pesi, meno è meglio. Farlo più concentrato e non è necessario tanti, tanti, tanti minuti, specialmente anche in sala pesi. 35 minuti in sala pesi è più che sufficiente per avere quello che ti serve, ok? Allora, adesso, torno indietro, stessi esercizi con le polpestrelle, sollevo la sinistra e poi la destra. Sinistra e destra. Ok, adesso, indietro con le gambe, non riesco a darci bene. Bene, veniamo in avanti in plancia, tocca spalla, tengo 4, 3, 2, giù. Cambio, 4, 3, 2, giù. Piano, provando di sentire il tuo corpo, tutto un singolo statua. Cambia. Ancora, 4, 3, 2, cambio. 4, 3, 2, giù. Ancora, 4, 3, 2, giù. Adesso, scendo giù, piano, 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 provi di arrivare con tutto il corpo insieme. Mani indietro, andiamo in cobra, cobra bassa però. Spingo lontano da me il pavimento, scendo giù. Inspiro. Svuoto, espiro giù. Inspiro. In giù. Ancora, su. E scendo giù. Ancora, su. Trattieni questa posizione che voglio passare poco a poco la musica, che oggi voglio concentrare ancora più di quello che stiamo facendo proprio con i muscoli. La musica è solo una traccia di sottofondo, già. Scendo giù. Ok, qua, guardi sopra le spalle destra. Twist. Espiro giù. Spingo su. Sopra le spalle sinistra. E scendo giù. Su. Guarda. E torna giù. E ultimo, su. Senti come si riscaldano con le braccia. Torna indietro. Adesso, in. Ginocchio. Ok. Cat cow. Guarda su. Curva la schiena. Inspiro su. E espiro giù. E ultimo. E espiro giù. E espiro giù. Ricordate con questo caldo, ragazzi. Ok, stendi la gamba destra, braccio sinistra in estensione. Teni la posizione. Isometria. Abdominali tesi. Senti come se ti stessi sollevando. Immagini l'energia che esce fuori dal fianco, dalla spalla. Teniamo la posizione. Appoggi il braccio sinistro. Apriti lateralmente e vai sull'esterno coscia. La braccia passa di fronte, sopra la testa. Ok? E ti fermi dove ti permetti... La tua spalla ti permette di andare. Teniamo la posizione. Quattro. Tre. Due. Solleva la gamba poco a poco. Quattro. Tre. Due. Braccio su. Chiudi il piede. Aggrappa il piede. Sempre mantenendo l'equilibrio. Porta il fianco indietro. Spalla indietro. Calcio. Faccio un piccolo calcetto con il collo del piede dentro la mano. E sentirei un po' nella spalla. Un po' nella scapola. Un po' nella schiena. Fissando un punto solo. Stendo la gamba di nuovo. Il braccio scende. Scendo anche il fianco. Adesso andiamo in su. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Ok. Piega giù il ginocchio. Scendo indietro. Pedale con le gambe. Pedale con le gambe. Provando di aiutare le gambe a trovare la loro posizione. Porto in avanti di nuovo. Scendiamo giù. Piano piano piano. Più piano possibile. Fino ad arrivare a terra. Tutto insieme. Piccola. Mini cobra. Vedrai già che la tua schiena è più libera. Su. Questa volta. Espiro giù. Guarda sopra le spalle sinistra. Torsione. Espiro giù. Inspiro su. Sopra la destra. Torno in centro. Giù. Allontano. Su. Gomiti stretti. Lunga la schiena. Colo rilassata. Spalle giù. Scendo. Su. Continui. Abdominali tesi qua ragazzi. Scendo. Ancora due volte. Senti come si stanno riscaldando le braccia. Giù. Ultima su. Schiena allungata. Dove ti senti tutto? Indietro. In ginocchio. Mani sotto. Scusate che c'è un... Qualcosa che mi fa un prurito sul naso. Un cappello sul naso. Scusate. Allora. Qui. Inspiro su. Espiro giù. Ancora. Inspiro su. Espiro. Inspiro su. Niente. Non riesco. Uscirne fuori vivo ragazzi. Devevi vedere. Smanettare con mia nasa perché c'è un pelo che mi sta facendo solitico. Ancora su. E qua. Adesso stendo la gamba sinistra. Braccio destro che va in avanti. Tengo la posizione. Voi rimanete. Non vi girate. Mi giro io. Ecco l'ho trovata. Ah. Ti ho trovata. Vediamo se riesco a gestirti il pelo. Mi giro io. Mi giro io. Perché quando andiamo in apertura laterale voglio vedervi o voglio che mi potete vedere. Abdominali tesi. Tengo la posizione. Continui, continui a tenere la posizione. Adesso. Abbasso il braccio destro. Apro. Tenendo il fianco laterale. Fissi un punto solo a terra perché diventa più facile. Il braccio passo di fronte. Sopra l'orecchio. E attenzionissimo con le spalle. Ok. Le spalle ci mettono anche mesi per aprirsi. Non è che faccio. E poi ti senti qualche cosa che va a una sorta di strattone o una schiccarone nella spalla. No. Lo senti finché lui ti permette così andiamo a recuperare anche la mobilità della spalla. Ok. Allungo. E tengo quella gamba alta. Isometria. Isometria. Tutto che è convolto. Il peso sotto la mano a terra. Braccio lungo. Lungo lungo lungo. Abbasso la spalla. Abdominali tesi. L'esterno coscia che è attivo. Porta la gamba indietro. Aggrappo. Fisso a terra. E do un calcetto con questo piede. Nella mano per sentire la spalla, la scapola e la schiena. Tengo di nuovo. Respira. Lascio la mano. Braccio in avanti. Tengo la gamba su. Rimanete là perché mi giro di nuovo. Rimanete là. Mi giro di nuovo. Mi giro di nuovo. Scusate le spalle. Però siamo qui. Abbassiamo di nuovo il ginocchio. E andiamo indietro. Adesso facciamo piccoli passi in avanti fino ad arrivare fino alle mani. Si può fare uno sbalzo solo o fai piccoli passi in avanti. Ok? Che dobbiamo magari riscaldare, risvegliare i muscoli. Allora io posso piegare le gambe all'inizio finché trovo un giusto allungamento. Però la verità è che prima o poi vorrò arrivare le gambe tese. Punto le dita e guardo in avanti. Mi allungo. Spingo giù sui taloni. Vengo completamente su. Le braccia vengono in centro. Di nuovo su. Adesso vado giù. Ok? Verso il lato destro. Mi giro io. Rimanete sempre davanti. Mi giro. Ok? E sto non solo andando a destra, ma guardo su sotto l'ascella. E provo di portare poco a poco indietro il cuore. Come se stessi provando di aprire il cuore al soffitto, al cielo. Non so dove sei. Magari sei fuori. Ok. Su. E spesso cosa. Stessa cosa. Giù. Ok? La prima cosa è qua. E poi guarda in su. Guarda verso alto. E sente come si allunga. Si apre tutto. Torno al centro. Di nuovo. Io mi torno al fronte come voi. E scendiamo giù. Mani giù a terra. Destra indietro. Questo punto. Lasciamo la sinistra in avanti. E metto braccio sinistra in linea con la gamba sinistra. E porto su il braccio destro. Ci vuole equilibrio perché il tallone è sollevato. Ancora per quattro. Tre. Adesso affonda il tallone indietro. Tieni il tallone indietro. Affondato. Guardi in su. Sei più stabile adesso, no? Adesso sei più stabile. Apri la schiena. Stiamo facendo tanti twist oggi. Porti il braccio in giù, ragazzi. Giriti frontale. E come se stessi facendo una cornice sulla gambe anteriore. Cominci a dondolare avanti e indietro. Allungando le gambe. E trovando un po' di elasticità muscolare su quella gamba sinistra. Ancora. Occhio. Rimango su. Gambe tesa. Inspiro. Espiro e allungo. L'allungamento. Non so se... Allora, non c'è nulla che non è importante per il corpo. Ok? Qualunque persona che dice fai solo questo è sbagliato, no? Stesse discorso. Ok, porta le gambe indietro. Andiamo in plancia. Qualunque persona dice... O togliamo i carboidrati, i carboidrati sono cattivi. O togliamo le proteine, le proteine sono cattive. O togliamo i grassi. Ok, giù. Cobra. Allora, il corpo è stato disegnato divinamente milioni di anni fa. Magari non milioni, ma centinaia di migliaia di anni fa. Allora, serve tutto. Anche l'allenamento. Curva i piedi, vai indietro. Allungati i talloni giù. Allora, lo stretching come il potenziamento, come l'esometria, come la pleometria. Perché noi abbiamo tante cose sul nostro corpo. Solleva la gamba sinistra, portalo in avanti. L'altro in avanti, allungo in su, chiudo in giù, salgo. Adesso andiamo al lato sinistra. Allora, tutto serve. Lo stretching è una questione proprio di mobilità, di flessibilità. Se io sono flessibile, avrò anche più forza. Avrò anche molta più stabilità articolare e molto meno probabilità di strappi. Così, se io ho meno probabilità di strappi o di stiramenti o di dolori così, posso allenarmi di più. Se mi posso allenare di più, che cosa succede? Divento più forte. Vedi come è tutto connesso così. Anche se lo stretching a volte, lo so, è doloroso perché ti senti tutto rigido. Necessario rifarlo, ragazzi. Ok, giù. Inspiro su. Inspiro. Scendo giù. Eccellente di nuovo. Adesso portiamo l'altra gamba indietro. Il tallone rimane alto. Stampo il braccio destro all'interno e porti su. Vedi? Se cadi è normale. Porti su il braccio sinistro e la tengo. Fissate un punto a terra per mantenere l'equilibrio. L'equilibrio è tutto connesso. Gambe, abdominali, glutei, piedi. Poi abbassa quel piede indietro e guarda in su perché sei più stabile. Lo puoi fare. Perfetto. Continuiamo così. Stiamo facendo un lavoro di potenziamento isometrico. E calmo. Io adesso voglio farvi potenziare senza agitarvi. Ci saranno giorni anche agitati. Stati tranquilli. Sono la Jill. Lo sai che mi piace anche. Non dico agitarvi ma farvi divertire. Però se volete io voglio che diventate statue. Per farti diventare statue. Stiamo per cambiare tutto. Il metodologia di allenamento. Per prima lo sto vedendo su di me. Con questi ricuperi. Con questi cambiamenti. Che sto facendo. Oh mi sta. Anche con molto meno fatica. Il mio corpo sta risplendendo. Ed è una cosa che dice. Ah però. Fantastico. Fantastico. Allora io con Sasha Sorrentino lavoriamo su il dimagrimento morfologico. Mela pera. E così. Proviamo di gestire anche la nostra produzione ormonale attraverso lo sport. Perché è un accondizionamento. È un adattamento. Rimaniamo su. Proviamo di allungarci in avanti. Piego la gamba. Mani a giù. Torni indietro ragazzi. Scendiamo giù. A questo punto non toccare più giù. Spingi in upward looking dog. Collo dei piedi a giù. Spingo indietro. Allungo. Eccellente. Portiamo la gamba sinistra in avanti tra le mani. E sollevamoci. Genocchio allineato. Ok. È un lunge. È un lunge. Braccia in su. Due spade che stanno sopra la testa. Teniamo. Teniamo. Adesso. Teniti in mano a mano. Scendo e salgo. Due. Ancora. E in tre. Ancora. E in quattro. Ancora. Cinque. Ancora. Sei. Ancora due. Sette. Occhio. Otto. Mani giù. Adesso. Portate peso su questa gamba. Solleva la gamba indietro. Fianchi paralleli. Piede a martello. Trattengo la posizione. Se volete mettere la mano su qualcosa che ti dà, diciamo, spessore. O anche un tavolo o qualcosa che ti permette di allineare la schiena così la senti meglio. Fallo. Adesso pompiamo in su. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Unisci le gambe in avanti. Pedale con le gambe per liberare le anche. Ci siamo ragazzi. Su. Sollevo. Spiro giù. Di nuovo braccio su. Scendo giù. Gamba indietro. Vai in downward looking dog. Ritorniamo. In avanti. Scendiamo ma non tocchiamo più per terra. Questo si chiama chataranga. Su. Sollevo. Torno indietro. Piedi giù. E portate la destra in avanti tra le mani. Saliamo. Braccia su. Ok. Rimango qua. Siamo pronti. Prenditi proprio. Grappati sulle mani sopra. Dobbiamo fare otto. Affondi. Uno. Stendo la gamba. Due. Stendo la gamba. Tre. Stendo la gamba. Quattro. Questo si chiama body weight perché stiamo utilizzando il stesso peso corporeo per allenarci. Ancora due. Ancora uno. E i bracci scendono. Sposto il peso sulle gambe anteriore. Sollevo le gambe indietro. Schiaccio i glutei indietro. Tengo la posizione. Abdominali tesi. Fianchi qua da sotto. Vedi che i fianchi sono parallele. E cominciamo a sollevare. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Tienile ancora. Ancora un poco a poco. Scendi con la gamba. Pedale con le gambe per recuperare. Ok. Divaricate le punte dei piedi. Scendo giù in squat. Divarico poco a poco le ginocchia. Mani tra il petto. Divarico con i gomiti. Adesso porto il braccio destro indietro. Braccio sinistra indietro. Cammino indietro finché non mi posso sedere. Ok. Gambe sono di fronte a noi. Andiamo a spingere sulle gambe. Su in tavola. E scendo giù. Che non sto scivolando indietro con i fianchi oggi. Facciamo solo un lavoro semplicemente di schiena. Respira. Schiaccio anche i glutei. And. Tre. And. Quattro. Ancora. Sentiamo un po' tutto. Le spalle che si stanno aprendo. Le mani che stanno lavorando. I glutei che stanno schiacciando. Oggi è total body. E stiamo lavorando un po' tutto. Tutto. Ma veramente anche spalle, schiena, abdome, gambe, braccia. Pettorali. Continuiamo. E in quattro. Ancora. E in tre. Ancora. E in due. E in uno. Eccellente. Scendo giù. Giro di fianco. Andiamo subito. Inside plank. Mi porto inside plank. Sollevo sotto. Trattengo la posizione. Se la voglio rendere più difficile, la mano sale. e sollevo da sotto. Su. Dominali tesi. Ok? Passando da un gruppo all'altro. A me piace fluid perché è un passaggio fluido. Da un movimento all'altro. Per darci quello che ci vogliamo. Corpe armonici. Un corpo scolpito. Un corpo in sintonia con la testa. e con la voglia e con l'anima perché è un viaggio. Respira. Ascolta il tuo corpo. E braccio scende. Scende giù. Rapidamente passa dall'altro gomito. Salgo su. Dominali sotto. Che trattengano. Tengo tutto allineato. Poi se voglio aumentare l'intensità. Azzolato il braccio. E un respiro ragazzi. Respiro. Dialogo. E oggi facciamo anche braccio con i pesi. Io adesso comincio a anticipare quale che serve. Serve i pesi. Io quando noi facciamo qualsiasi allenamento vi invito sempre di avere un elastico ai pesi vicini. E tappeti vicini. Perché noi passiamo da una cosa all'altro. E un po' come mi inspiro come voglio allenarvi oggi. E i pesi oggi devono essere pesanti. Ok? Tre chili. Due chili. Se ce l'hai cinque chili. Perché cominciamo ad andare a lavorare proprio su il sostegno. I muscoli. Ok? Di nuovo. Rimani là. Ascolta il corpo. Braccio giù. Torniamo in centro. Adesso voglio farvi anche vedere un altro esercizio. Lo voglio spiegare a sufficienza perché lo vedete spesso nel Fluid e lo facciamo. Il kick through. Allora. Il kick through ragazzi è portando la gamba destra in avanti spostando il braccio destro e faccio un calcio con l'altra gamba e torno indietro. Poi facciamo sinistra in avanti appoggio. Sposto la mano e faccio un calcio in avanti e torno indietro. Di nuovo lentamente. Destra si appoggio. Sposto la mano destra. Sinistra si stende e indietro. Poi sinistra. Sposto il braccio sinistra. Stendo la gamba destra. Aspetta mi sposto la mia finestra per non dargli un calcio. E indietro. Così. E Fluido. Uno. Torno indietro. Due. Torno indietro. E tre. Diventerete anche voi molto leggeri. Ok? Lo facciamo senza salto. Ok? Appoggio. Stendo. Appoggio. Torno. Appoggio. Stendo. Destra. Sinistra. Appoggio. Destra. Stendo. Sinistra. In. Dietro ancora. Uno. Stendo. Torno indietro. Ancora due volte. Uno. Stendo. Torno indietro. Ultima volta. Stendo. E torno indietro. Eccellente. Vai. Downward walking dog. Ricupere i ragazzi. Bravi. 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 Ok. Pieghi le gambe per favore. Mettetevi le scarpe. Andiamo avanti. Con altri esercizi di Total Body. Oggi siamo abbiamo cominciato con il nostro Fluid che è un modo per riscaldare. Ok? Così. Mettetevi le scarpe. adesso ricordate sempre di bere durante l'allenamento. Molto di voi mi parlate dell'energia sottostante. Che cosa possiamo fare? Possiamo assolutamente bere più acqua. Scusate. Sali minerali. E oltre a sali minerali se volete energia o è la carnettina o la macca. La macca è un tubero peruviano che lo usavano per fare le marce. Così avevano tanta energia senza la fame e era un adatto genico aiuto al corpo per superare i momenti di stress. L'estate è un po' stressante per il corpo specialmente se aggiungo l'allenamento. Però la macca non va mai presa oltre le 11 della mattina perché la macca è talmente energizzante potrebbe non farti dormire e non è una cosa che voglio. Allora vediamo un attimo. Eccellente. Bevete mi devo prendere anche io l'acqua mi date due secondi perché mi serve anche l'acqua a me. Yey acqua acqua così facciamo tutta una pausa acqua insieme prendete i vostri pesi i vostri pesi possono essere anche tranquillamente due bottiglie d'acqua cin cin ok poi tra un paio di giorni ragazzi cominceremo con le tre tipologie di allenamento allora io sto usando 4 kg cominciamo con un'alzata laterale che è una cosa semplicemente gomito leggermente piegata e spalle basse andiamo per 10 1 and 2 and 3 eccomi 4 devo stare tendo la televisione 5 6 7 8 9 10 facciamo ancora 2 1 e 2 relax allora vi dico un'altra cosa ragazzi il peso perfetto qual è? il peso perfetto qual è? è tra 8 e 12 ripetizioni se io arrivo a 12 e potevo fare un altro 8 vuol dire che stai utilizzando un peso troppo leggero se io arrivo a 6 e non riesco più a muovermi le braccia vuol dire che il peso è troppo pesante e questo non lo vogliamo neanche perché noi abbiamo bisogno di trovare un stimolo ipertrofico che vuol dire che stimola il tuo muscolo a crescere e sono sempre gli ultimi due siamo pronti? ancora 12 1 scendo guardami le spalle non si salgono le spalle si allontano dalle orecchie ok? sto alzando dalla spalla stessa ancora 5 6 7 piano in giù 8 9 10 ancora 2 1 2 provate di non lanciare con le gambe provate di non strattonare l'altra cosa è la discesa perché come personal trainer il mio lavoro è di insegnarti a allenarti da solo o senza la mia presenza così quando facciamo su scendo giù piano ok? movimento eccentrico e concentrico e vado piano nella discesa che mi allena ulteriormente ai muscoli non strattone spalle lontano petto di pollo petto in avanti spalle indietro di nuovo andiamo ci siamo pronti? 1 scendo piano 2 ancora i gommetti leggermente piegati 4 ancora 5 guardami il petto vedi che il petto in avanti 6 ma non in arco della schiena 7 8 9 10 ancora 1 2 1 adesso io lo sento 2 quegli ultimi 2 sono quelle che ti fanno crescere il muscolo l'altra cosa che voglio invitarvi a ricordare è se per oggi se è troppo facile perché non hai il peso a sufficienza aggiungete un elastico a me mi sta sotto i piedi usa l'elastico a posto dei piedi così puoi avere il massimo del tuo allenamento perché ripeto a volte io posso allenarmi di meno e avere di più ultima serie 1 e scendo 2 scendo 3 piano piano 4 5 6 7 8 ancora 9 10 l'ultima 2 la sentiremo 11 ottima 12 appoggia perfetto ragazzi adesso usiamo una sedia ok una sedia che può essere una sorta di panca modificata ok mi giro leggermente andiamo a fare spinte altre cose che quando usiamo i pesi è buono di lavorare il gruppo tutti insieme per far sì che si stanca perché quando il muscolo si stanca cresce se io faccio un po' un po' un po' un po' non do mai la stanchezza adeguata al gruppo per stimolare il massimo dell'ipoterapia ok adesso facciamo spinta in su guarda i gomiti vanno in linea con le spalle schiena sul retto della sedia ok 2 piano scendo 3 piano scendo 4 piano scendo 5 6 7 8 vai 9 10 dammi ancora 2 e 1 e 2 gomiti centrali e poi scendiamo giù ricupero e poi piano piano cominciamo a usare molto più pesi molto più body weight molto più cose per tonificarvi e non preoccupate dei muscoli perché ci sono andate da andare ah non voglio muscoli oh cielo non voglio diventare culturista non diventerai culturista tranquilli perché o se c'è una predisposizione genetica di produrre più massa magra io sono un po' uno di quelli io sono un po' testosteronico e io metto tanto massa ma la donna tipica non succede specialmente se sei a forma di pera anzi fate fatica a mettere la massa magra così state tranquilli perché quando vado a potenziare i muscoli mi consumano meno spazio mangiano il grasso entramuscolare così i muscoli diventano più piccoli perché mangiano per prima il grasso entramuscolo sai c'è presente la bestecca tipo fiorentina c'è tutta quella manualizzazione di venature di grasso e quella che va mangiato per prima così il muscolo tonico consumo meno spazio ancora 5 6 7 8 9 10 1 2 piano e io mi manca stare a pesi tantissimo perché ti senti di scarica ti senti alla fine che hai fatto un allenamento pazzesco e ti senti non dico un maccio però anche quei giorni quando qualcuno ti ha fatto arrabbiare fai pesi e ti senti di rambo ok e 3 andiamo 4 5 6 7 8 piano giù 9 attente le spalle e non inalzare le spalle ancora 1 e 2 va bene 3 serie per le spinte adesso prendete un qualche cosa un cuscino un qualche cosa che ci permette possiamo anche farlo tecnicamente tecnicamente in piedi però voglio facciamo una panca modificata per la parte la testa posteriore della nostra spalle ok così rimango in avanti vengo anche un po' in avanti con la mia sedia e tiro sul laterale 1 prova di rilassare la testa sul cuscino 4 5 scusate perché c'è il mio microfono che sta battendo sul cuscino ok il problema di fare la parte posteriore della deltoide è che coinvolgi il trapezio allora noi proviamo di lasciare il mento giù rilassato prendi i cuscini finché riesci a sentire che sei proprio appoggiato e facciamo 1 2 spalle sempre lontano dell'orecchia 6 7 8 9 10 dammi ancora 2 1 e 2 se cominci a sentire il collo con volto zona cervicale con volto interrompi o riduci il peso voglio soltanto lavorare sulla parte del deltoide posteriore di solito in sala pesi avremmo utilizzato una panca inclinata invece noi stiamo creando la panca modificata a casa quando parli del deltoide stai parlando di tre teste che ci sono quella anteriore quella laterale mediale e poi quella posteriore adesso andiamo a lavorare 1 su quella posteriore 2 non troppo grande 3 e scendo 4 e scendo non salire troppo con i gomiti 7 8 dammi ancora 2 9 10 se la senti sul collo abbassa perché non voglio che stressiamo il collo non voglio che stressate il trapezio perché non è su e giù con le spalle ma è un arrematore con la mano che va a lavorare la spalla facciamo l'ottima serie poi cambiamo qua ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 ancora dammi 2 9 e 10 appoggia allora adesso andiamo a prendere un peso più piccolo perché per lavorare la parte anteriore cioè non voglio che vi strattonate allora passa o ha un peso molto più piccolo possiamo fare diversi esercizi un esercizio devi prendere questo portiamo le mani di fronte così proprio di fronte peso contro peso e traccio su e giù movimento molto piccolo è 1 2 3 4 5 6 spinta in su 7 8 ok potete anche provare con il peso più grande però la fai voglio che faccia piccoli movimenti 2 3 vedi che hai meno forza con la parte frontale del deltoide 5 6 7 8 ancora 9 ultima 10 piano l'altra cosa che noterete è che in questa posizione ti servono i polsi e la forza del polsi così quando ti ho detto che lavoravamo anche su la forza dei polsi serve per questi movimenti dove la presa salda sul peso è importante di fronte andiamo 1 2 3 ancora 4 5 6 7 8 9 10 relax l'altra cosa che è importante ragazzi è fare le braccia fare i pesi con le braccia lo sai perché sta finendo il nostro tempo perché ho detto non volevo lavorare troppo però l'altra cosa delle braccia è se io non sono forma di pera cioè la coscia è grossa quando io allargo le spalle o definisco le spalle compenso i fianchi diventa più effetto clissidra dall'altra parte le mie amiche Mela Mela spesso e volentieri avete problemi dell'adipe su tricipide un modo per andare a tonificare le braccia l'altra cosa qual è la prima parte su un corpo umano che si vede denudato sono le braccia se la braccia è tonica sembra più tonica tutto il corpo ok adesso andiamo a lavorare i bicipiti e tiro su e giù su e giù poi ricordate sempre che se alla fine di questo allenamento magari tu vedi questo allenamento oggi e pomeriggio dici ok va bene non posso aggiungere altre che Jill mi ha detto di non aggiungere oltre 45 minuti all'allenamento ma da domani tu potresti fare un allenamento magari più aerobico la mattina e tu fai questa la sera provando di magari fare 20 minuti di aerobico la mattina e fai pesi la sera perché voglio tenere specialmente la mia amica mela noi non vogliamo aumentare il cortisolo la sera qualunque cosa che è troppo aggressivo relax qualunque cosa che è troppo aggressivo potrebbe aumentare il cortisolo cortisolo alto vuol dire aumentiamo purtroppo quella forma di mela perché ci mettiamo il grasso sulla pancia di nuovo vai su e giù uno respiri spalle giù petto in avanti rilassi le spalle non permettere le spalle di lavorare ancora e quattro e tre e due e uno relax cominci a sentire come queste braccia stanno lavorando ricordate che quando fai un gruppo fai tutto il gruppo ok braccia abbiamo fatto le spalle adesso facciamo deltoidi abbiamo fatto i deltoidi stiamo facendo i bicipiti poi facciamo i tricipiti e abbiamo fatto il gruppo quando fai glutei le fai glutei grande glutei medie lavori per i glutei in diversi esercizi che vanno a tingere scolpire i muscoli su diversi fronti ok di nuovo uno due e tre continui quattro cinque sei sette otto dammi ancora due nove dieci io voglio che domani senti l'acido lattico se non avete abbastanza peso in casa perché non avete i pesi potete prendere Thunderbird che pesa tre chili potete prendere una bottiglia di un litro e mezzo e lo riempi di sassi di sabbia di acqua di paloncini di come si chiama i palini di piombo e vedrai che pesa cinque chili se non riesci a trovare i pesi ancora ultima volta due tre spalle indietro quattro cinque sei sette otto nove e dieci eccellente invece per i tricipidi che è un movimento in estensione del braccio il tricipide è l'antagonista del bicipide vi consiglio un elastico un fusò possiamo anche utilizzare i pesi ma più facile e più sicuro di controllare il tricipide con un elastico andiamo in su uno due tre quattro cinque sei sette otto ancora otto sette sei cinque quattro tre due ancora otto sette ancora quattro tre due ultimo otto otto sette sei cinque quattro tre due e relax cambia lato sempre senza fare movimenti strani con le spalle perché le spalle hanno bisogno di essere protetti l'abbiamo protetto con i fluid lavoriamo di elasticità e mobilità flessibilità con fluid piano piano io mi sono rieducato le mie spalle con fluid piano piano e vedendo tanta mobilità articolare ritornare la mobilità articolare e quello che ci invecchia ok quello che ci toglie l'elasticità in terza età così però ci si può sempre tornare indietro sempre recuperare tutto tutto è recuperabile la cosa che devi fare è essere costanti ancora quattro tre due uno ancora rimango lo senti che bello che bello che bello quanto mi piace mi piace mi piace mi piace i pesi vedrete sempre più pesi un po' mi mancano perché io facevo tante pesi quando anni 80 90 la facevo tantissime poi mi sono cambiato un po' su super jump 2008 cambiato un po' il mio mondo ogni tanto cambio torno rispolvero vecchie tecniche e devo dire che il corpo dice grazie perché purtroppo possiamo cominciare a cadere in altro anello di fare sempre la stessa cosa ma sempre la stessa cosa non è mai positivo per il corpo perché il corpo ti sgama e si accorcia le schievo motorie per darti il risultato così vuol dire bruci meno calorie ancora quattro tre due o gli sentaggi dal lato godà per tutto non so voi mamma mia che bello mamma mia che bello corcela bene con l'elastico andiamo uno vai perché dobbiamo finire bene il nostro allenamento e ricordate che domani se volete ripetere questo allenamento fai questo pomeriggio e fai specialmente le mie amiche mele la mia amica mele la mattina fai il lavoro aggressivo energetico aerobico e la sera facciamo cose calme che è vero che ci fanno tonificare è vero che ci fa rassodare ma è vero che non ci innalza tutta l'agitazione e il cortisolo ancora quattro tre due e quello ah quello ultimo movimento che non riesce a finire è quello che ti stimola la crescita muscolare ancora un giro perché il nostro tempo sto guardando eh sì sì siamo arrivati 45 minuti e 45 minuti tempo limite prima di cominciare a subentrare nella produzione di cortisolo specialmente quando facciamo pesi cortisolo o un antidorrorifico un antinfiammatorio cortisone che si usa cortisone per come antinfiammatorio è vero ti sfiamma tutto però anche è vero che è un catabolico che ci fa perdere massa magra depositare liquidi e depositare grassi e noi non vogliamo né uno né l'altro continuiamo otto sette sei cinque fino a un fondo quattro e tre e due e relax cambiamo lato andiamo otto sette sei cinque quattro tre due ultimissimi otto otto sette sei sei cinque quattro tre due uno and stop ok ragazzi abbiate fede che comunque adesso tu potresti andare a fare una meditazione più o stretching o una meditazione però la cosa importante è lasciare stare all'eserbe che uno dice ma ho fatto solo 45 minuti non ho fatto gli abdominali e non ho fatto le bruci grassi non va fatto tutti i giorni tutto calmatevi rilassatevi e prestatemi la vostra fiducia perché lavoro sempre alla ricerca per migliorare la vostra performance ok ricordate anche che se volete prendere un integratore ti aiuterà tantissimo avere di più del tuo metabolismo noi dobbiamo smetterti di aggredire il corpo dobbiamo cominciare a secondare il corpo ricordate che qualunque macchina che viene sovrousurata si rompe prima così si guido la macchina sempre a 200 km all'ora si rompe prima di una macchina che la tengo a rodaggio e poi magari faccio soltanto la velocità di crociera 130 non proviamo di sovrastare il nostro corpo il nostro corpo è creato di agire e poi riposare agire ricuperare e quando si ricupere il corpo risplende così passate una serata nuova sappiate che da pochissimi giorni subentrerà questa nuova metodologia di allenamento mela pera dovrai obbligatoriamente gestire i tuoi spazi gestire il tuo tempo ma vi garantisco che il corpo sarà ancora più bello di oggi con meno fatica vi va? va bene baci a tutti passate una serata splendida e spero che state passando un'estate spettacolare ciao da Jill grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti